Sappiate accogliere. La voce interiore attraverso Roberta S. Santa Maria delle Mole, 9 novembre 2010, a cura di Vubbi. Guida. Allora fratelli, sappiate accogliere gli sguardi negativi di chi non vi è simpatico, semplicemente perché sono di passaggio, fanno parte del vostro cammino come un qualcosa che colora, cambia il colore alla vostra vita in quel momento, ma poi sappiate anche gioire di quelle persone che invece vi donano gioia e vi sanno rallegrare. Sappiate mettere sullo stesso piano coloro che non vi fanno simpatia con quelli che in realtà sono solo incapaci di scambiare con voi le stesse energie. Sappiate dunque muovervi nella vostra esistenza senza l'ossessione di mettervi contro qualcosa o qualcuno, senza quella convinzione di voler vincere a tutti i costi una posizione, di voler essere all'apice di qualcosa, perché ognuno di voi è già all'apice della propria vita, della propria esistenza. Siete al vostro punto di evoluzione migliore, se così vogliamo dire, ma non gioite di questo e questo ci dispiace, perché da quella gioia potrebbe scaturire una nuova gioia, una nuova innovazione, un qualcosa di diverso in grado di farvi vedere la vostra vita per quello che è. Allora sappiate accogliere quelle domande di chi non vi è simpatico e sappiate anche rispondere con quella sincerità che fa parte del vostro essere, così come ne fanno parte i vostri occhi e le vostre orecchie.